amica hai riacceso la candela si ma cosa devo fare ora cioè ho staccato le mani dalla ouija e la planchette anche quindi c'è questo libro non trovo nulla aspetta che provo a cercare qualcosa su internet ok allora sto cercando qualcosa su questo sito dice che aver staccato le mani dalla tavola ouija ha permesso agli spiriti di vagare per la stanza devi comunque chiudere la seduta amica ma non mi fa chiudere la seduta non saprei prova a fare altre domande magari ha qualcosa da dire ok allora perché sei qui cosa vuoi da me chi chi N O Vicino Vicino a chi? Cioè se è vicino a me Ma vicino dove? V G C G N O Vicino Eh cosa vuol dire? Continuo a dirmi vicino Sempre vicino ma non so cosa vuol dire Secondo me è meglio se provi di nuovo a chiudere la conversazione Eh provo Posso chiudere la seduta? Ecco No 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 Hai altro da dirmi? Oltre a vicino? Mi pare di no Giusto? Non mi stai chiedendo Cioè non mi stai dicendo altro Quindi posso chiudere la seduta Niente Per favore posso chiudere la seduta? No Dice sempre di no Come prima Allora aspetta che vedo se Qui ci sono scritte altre informazioni Ok grazie Perché non so proprio come fare Puoi provare a purificare la tavola per attirare energie positive Qui parla di cerchi di sale grosso intorno alla tavola Oppure purificare l'ambiente con della salva bianca Si ho entrambe le cose Posso farle Le faccio subito E però tu puoi staccare le mani dalla Luisa Pazienza Tanto ormai il danno è fatto Ho tutto Ecco qua Alla salva bianca Che buonissimo Profumo Lo adoro No magari il pelo di semmo lo togliamo E il sale grosso che tengo qui dentro Questo barattolo di vetro Perché l'ho fatto Vi faccio Grazie Ciao Grazie a tutti. 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 Ok, l'ho fatto, spero di averlo fatto bene e vediamo. Prova a vedere se ora ti fanno chiudere la seduta. Ho un po' paura onestamente perché ho paura che mi dicano di no e che non riesco più a chiudere questa seduta e che poi non lo so cosa potrebbe succedere di altro. Però, cioè, dovevo assolutamente farla la tavola, perché c'è inutile dire che ho attirato qualcosa, c'era già qualcosa qui. Quindi, quindi, non credo di averla tirata io, quindi, cioè, dobbiamo avere coraggio, più che altro io, devo avere coraggio e finire questa storia che è iniziata e basta. Quindi adesso chiudiamo questa seduta, quindi adesso chiudiamo questa seduta, mi imporrò però in modo educato e quindi, ok, abbiamo fatto, cioè, ho fatto tutto quello che dovevo fare e più di così non so che altro fare. Quindi, ok, io mi sento pronta, faccio un ultimo respiro profondo e, insomma, adesso dovrebbe funzionare. Ok, allora, aspetta, un attimo. Ok. Posso chiudere la seduta? Very, very, very. Yes. Ok. Goodbye. E' andata sul goodbye. Quindi l'ho chiusa. E' andata su yes. Cioè, è andata velocemente sul no. E poi è andata su yes. E poi è andata su goodbye. Quindi è chiusa. Finalmente è finita. Per fortuna. Grazie, amica. Posso chiudere la seduta? Very, 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 very.